Colpo notturno al liceo scientifico Leonardo Sciascia di Canicattida, dove sono stati rubati sei computer portatili e una cassa acustica. Un furto eseguito probabilmente a più mani, quello perpetrato all'interno dell'istituto scolastico. I ladri, secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Canicattida, hanno forzato una delle porte secondarie della scuola per introdursi all'interno. Obiettivo la ricerca di materiale di valore, in questo senso le attrezzature moderne, sempre più presenti e diffuse nelle scuole, rappresentano un'occasione ghiotta per i malviventi, che possono poi rivendere i dispositivi elettronici o i loro componenti. Il furto è stato scoperto al momento dell'apertura dell'istituto ed è stato il dirigente scolastico a segnalare l'accaduto alla stazione dei militari dell'arma, i quali hanno subito avviato un'indagine a carico di ignoti sotto il coordinamento della procura di agrigento. Ancora da quantificare il danno subito dal liceo Sciascia, visto che le attrezzature non sono coperte da polizia assicurativa. Da capire se nelle vicinanze della scuola ci siano telecamere di sorveglianza con sistema di registrazione e che quindi potrebbero avere filmato gli autori del furto.